Ci torniamo da te, Bruschini. Ti dico l'ultima perché so che adesso devi andare nelle marche. Eh, vai, vai, vai. Scusi, sono l'ultimissima che è questa. Dovrei fare un'altra trasmissione perché un taxista bolognese mi ha dato una notizia. Ci sono a Bologna alcuni ristoranti che hanno messo nel menù gli spaghetti alla bolognese. Oh mamma. Non so se ti rendi conto, gli spaghetti alla bolognese non esistono. Sono un'invenzione turistica e non è una notizia da prendere alla leggera così, una cosa di colore. Querela, querela subito, si devono muovere i tribunali. Della gastronomia dell'identità. Eh certo, ma come si fa? Spaghetti bolognese. Ma neanche a New York ci sono gli spaghetti bolognese, è una vergogna. Grazie Patrizio per essere stato con noi. Bravo, vedo che capisci. Dobbiamo battezzare questo format di Roversi a passeggio per l'Italia. Glielo mandiamo nelle marche, se vuole glielo mandiamo, mica è un pacco. Bruschini, Bruschini. Non ci crederai. Volentieri. Sta cominciando a piovere. Sta cominciando a piovere. Bruschini. Voi invece...